Caltanissetta panorama fotografico è la mostra di Salvatore Alessi in esposizione nei locali dell'Infopoint, prologo del comune di Caltanissetta, che racconta per immagini la vista della città dall'alto e che sarà visitabile fino al 24 aprile. Una passione è quella della fotografia che si unisce a quella del volo e che Salvatore Alessi ha in questa mostra condiviso con i visitatori, scegliendo i momenti di una vista panoramica davvero unica. Un piacere che mi sono voluto passare facendo un volo con un superleggero è omaggiare Caltanissetta e i disegni di questa visuale insolita, una prospettiva completamente diversa. Ho corredato queste foto aeree con delle cartoline illustrate, un pezzo di storia della Caltanissetta di una volta che ormai non c'è più ed ho invitato anche degli amici, secondo il loro punto di vista, come vedono la città di Caltanissetta. Nella mostra sono presenti scatti della città realizzati anche da altri due fotografi, Ilenia Marchese e Salvatore Laplaca, che hanno ritratto aspetti particolari del capoluogo nisseno. Ilenia Marchese e Salvatore Laplaca, che hanno ritratto aspetti particolari del capoluogo nisseno. Ilenia Marchese e Salvatore Laplaca, che hanno ritratto aspetti particolari del capoluogo nisseno.